In questi giorni ricorre il sessantesimo anniversario della morte di San Giovanni Calabria. Per ricordare l'evento, il 4 dicembre tutta la famiglia calabriana si è ritrovata nella basilica di Santa Anastasia, a Verona, dove è stata celebrata una santa messa presieduta dal casante padre Miguel Tofful. Carissimi fratelli e sorelle del Signore, un giorno come oggi, il 4 dicembre del 1954, 60 anni fa, moriva Don Giovanni Calabria, il nostro San Giovanni Calabria. San Giovanni Calabria Le celebrazioni per il sessantesimo di Don Calabria erano iniziate il giorno prima, 3 dicembre, sempre a Santa Anastasia. Nell'occasione, il teologo Monsignor Giacomo Canobbio ha tenuto una conferenza sul tema della morte nella spiritualità cristiana. L'intervento di Monsignor Canobbio è stato preceduto e seguito da un apprezzato concerto ad opera del quartetto d'archi Arcangelo di Venezia.